Stiamo leggendo insieme l'Apologia di Socrate, importantissimo libro che ci presenta il processo che fu intentato al filosofo greco nel 399 a.C., il processo forse più famoso della storia della filosofia insieme al processo a Galileo Galilei. Abbiamo già fatto due puntate, oggi proseguiamo con la terza puntata, leggeremo un'altra serie di capitoli di questo libro e ve li commenterò. Andiamo a cominciare. Un sorso di caffè nella tazza solita. Come vedete indosso anche una maglietta particolare perché si intravede Nietzsche e c'è scritto Nietzsche, Japs Doubt It, facendo il verso all'altra marca di magliette col baffo, che non cito perché se no è pubblicità. Con me ci sono, come sempre, Batman Topolino, De Andrè e Tolstoi. Io, oltre che Nietzsche, io mi chiamo Ermanno Ferretti. Sono un insegnante di storia e filosofia di un liceo scientifico di Rovigo e dal marzo del 2020 su questo canale sto realizzando video spiegazioni di storia e di filosofia, a volte anche di attualità, a volte anche di altre questioni, oltre che podcast eccetera, che però aiutano, spero aiutino, quelli che sono interessati a studiare, ripassare, conoscere appunto la storia oppure la filosofia, o meglio ancora tutte e due assieme. Tra i vari video da qualche tempo ho iniziato a fare anche dei video relativi ai libri all'interno della rubrica che si chiama Book Club Storico-Filosofico e all'interno di questa rubrica stiamo parlando da un paio di puntate dell'Apologia di Socrate, testo fondamentale, testo scritto da Platone, l'esordio letterario di Platone dedicato però al suo maestro Socrate. In descrizione vi dico subito trovate la playlist che racchiude le prime due puntate di questa serie e anche questa poi racchiuderà le puntate successive così poi se vorrete rileggervi tutto il libro o solo il libro in sé o i commenti potrete rivedere i video saltare di palo in frasca perché vi dico anche che questo video se guardate in descrizione lo troverete diviso in capitoli ogni capitolo del libro ha una sua sezione apposita e ogni commento ha una sua sezione apposita quindi se volete ascoltare i miei commenti lo potete fare in cui spiego e cerco di chiarire alcuni punti magari non proprio facilissimi del testo se volete solo ascoltarvi invece il testo di Platone potete saltare direttamente i miei commenti e ascoltare invece la lettura. Nelle puntate precedenti siamo arrivati fino al quattordicesimo capitolo e abbiamo visto come Socrate tenta di barcamenarsi davanti alle accuse è stato accusato di impietà è stato accusato di corrompere i giovani e lui ha tentato di capire di spiegare meglio perché la gente ce l'abbia con lui prima di tutto ha cercato di far capire alla giuria perché qualcuno lo ha accusato e ha fatto capire di essere un personaggio scomodo antipatico mal visto nonostante la sua opera sia meritoria e poi da poco ha iniziato a cercare di ribattere proprio puntualmente alle accuse in particolare di Meleto che è uno dei suoi accusatori soprattutto per quanto riguarda l'accusa di corrompere i giovani e ha dimostrato che non ha senso questa accusa e soprattutto per quanto riguarda la sua eventuale non credenza degli dèi e anche qui abbiamo visto proprio in chiusura dello scorso video che Socrate dimostra come l'accusa non abbia molto fondamento anzi lo si accusa di cose che lui non sosteneva e che invece erano sostenute da Anasagora altro filosofo di quel tempo proseguiamo andiamo avanti e ripartiamo dal capitolo quindicesimo capitolo quindicesimo anche qui c'è un botta risposta tenterò di fare le due voci guardate con me che si contraddice così è chiaro tu rispondi a noi o Meleto e voi ricordatevi di quello che vi ho pregato in principio di non mi far rumore se io ragiono nel modo solito c'è alcun uomo o Meleto il quale creda esserci cose umane sì ma uomini no che rispondo a giudici e non si dimeni non i schiamazzi c'è alcuno che non creda esser cavalli e cose cavalline sì che non creda esserci sonatori di flauto e sonate di flauto sì non c'è o il più buon uomo se non vuoi rispondere tu rispondo io a te e a questi altri ma questo devi rispondere tu c'è alcuno il quale creda esserci cose demoniache e demoni no non c'è che bene mi hai fatto che alla fine tu mi hai risposto un poco ma sforzato ora tu affermi che io credo insegno esserci demoniache cose nuove o vecchie che siano dunque a cose demoniache credo secondo che di tu e giurato l'hai nella tua querela ma se io credo in cose demoniache è ben di necessità che io creda anche nei demoni non è così così da che non rispondi suppongo che tu consenta e i demoni non crediamo noi essere i dii o figli di dii sì o no? Eh sì dunque se io credo in demoni come tu affermi e se i demoni sono cotali dii ecco che dico io tu fai un enimma per fare il grazioso affermando che negli dii io non ci credo e ci credo e se poi i demoni sono cotai figli spuri di dii partoriti o da ninfe o da altre che dicono qual uomo crederebbe esserci figli di dii e dii no? Sarebbe tal strana cosa quale se alcun credesse esserci figli di cavalli e di asini i muli e non credesse esserci cavalli e asini ma omeleto una delle due o mai scritto l'accusa per pigliarti giuoco di me e mettermi alla prova o per non trovarmi una vera colpa che tu imputare mi potessi ma che ti venga fatto di persuadere alcuno anche se di piccolamente che uno medesimo creda esserci cose demoniache e divine e demoni e dii ed eroi no non c'è modo né verso. Allora vedete c'è la solita prosa ottocentesca di questa traduzione di Francesco Acri che è l'unica fuori da copyright quindi ci serviamo di questa ma in realtà il discorso è piuttosto logico qua di nuovo Socrate interroga omeleto e lo vuole mettere alle strette e gli dice chiarissime sto punto omeleto tu credi che ci possano che ci possano essere cose umane senza che ci siano gli uomini che ci possano essere suonate di flauto senza che ci siano i suonatori di flauto meleto dice no se ci sono suonate di flauto musiche fatte col flauto ci deve essere anche chi le esegue se ci sono cose umane ci devono essere anche gli uomini prima bene allora dice Socrate dunque anche se è vero tutto quello che abbiamo detto se noi ammettiamo che esistono cose demoniache devono esistere i demoni giusto perfetto allora se tu supponi che io dica cose demoniache supponi anche che io dica che esistono i demoni ma cosa sono i demoni ragioniamoci dice Socrate i demoni sono secondo le nostre credenze figli degli dèi giusto o sono dèi o sono figli di dèi se d'accordo e qui meleto dice sì sì ma allora ascolta dice Socrate se tu dici che io insegno cose demoniache significa che io credo nei demoni e se io credo nei demoni significa che io credo che esistano gli dèi perché i demoni sono figli di dèi allora capisci meleto che la tua accusa non ha nessun senso mi hai accusato di non credere negli dèi di essere ateo e poi mi accusi di insegnare cose demoniache ma allora non hai capito niente perché se mi accusi di questo di insegnare cose demoniache implicitamente ammetti che io credo negli dèi capitolo sedicesimo ma o atenisi che non sono io reo di quello che mi accusa meleto di molta difesa mi pare che non ci sia alcun bisogno queste ragioni bastano ma ciò che detto ho di anzi che io mi sono tirato addosso molto odio di molti sapete che è vero e quest'odio mi perderà seppur mi può perdere non meleto né anito sì quest'odio invidia che perdette e credo perderà altri molti e buoni uomini perché non è a temere per nulla che in me si arresti dirà alcuno non ti vergogni socrate che a tale esercitazione ti sei dato per la quale stai nel pericolo presentemente di morire ma io giustamente risponderai a lui tu non di bene o uomo se credi che uno valendo pur poco abbia a ragionare il pericolo della vita o la morte quando fa alcuna cosa e non considerare solo se cosa giusta fa o ingiusta se opera fa di buono o di malvagio uomo se no tutti da poco secondo il tuo discorso sarebbero quei semidei morti a troia tra gli altri figlio di tetide il quale tanto sprezzò il pericolo per non sostenere vergogna che a lui deliberato di uccidere Ettore dicendo così come penso io la madre che era dea se tu o figliuolo vendicherai la morte di patroclo il tuo amico e ucciderai Ettore morirai dopo quello d'Ettore pronto è il tuo fato egli a udire questo facendo picciol conto della morte e del pericolo e temendo la vile vita se gli amici non vendicava così rispose muoia pure io tosto dopo data la pena al reo a ciò che io qua non rimanga ludibrio presso le alle curve navi peso alla terra o credi che sia si angustiato per la morto il pericolo in verità è così o ateniesi dove si pone alcuno da se medesimo giudicando essere il suo meglio o dove posto da colui che comanda ivi ancora che in pericolo deve stare non badando niente né a morte né a null'altro ma si alla vergogna in questo sedicesimo capitolo Socrate fa dei riferimenti mitologici come avrete forse intuito perché sta dicendo vabbè penso di essermi difeso abbastanza di aver chiarito le mie ragioni ma voi mi potreste dire ma chi te l'ha fatto fare Socrate di finire come sei finito adesso sei a processo rischi la vita perché hai voluto forse strafare hai voluto filosofare in questa maniera pericolosa hai voluto andare in giro a predicare il tuo metodo le tue idee anche quando era evidente che ti mettevi a rischio sei stato un po sciocco potrebbe dire qualcuno e Socrate si risponde la sola e dice beh in realtà non era sciocca è la persona per bene fare quello che ho fatto io pensate se a ragionare come ragionate voi cioè di dire non mettete nei guai eccetera fosse stato ad esempio Achille qua dice non lo cita esplicitamente ma dice il figlio di tetide il quale sprezzò il pericolo deliberando di uccidere Ettore nonostante ci fosse una predizione che diceva che una volta ucciso Ettore anche lui sarebbe morto ecco Achille l'eroe dell'Iliade uno degli eroi uno dei principali eroi dell'Iliade non ebbe paura di fare quello che ne aveva fatto sapeva che svolgere il suo compito non avrebbe portato alla morte al sacrificio perché era già era già predetto che questo sarebbe accaduto eppure ha fatto quello che doveva fare e riporta proprio il ragionamento stesso di Achille muoia pure io tosto muoia pure io subito dopo che abbia dato la pena che devo dare ad Ettore a ciò che io non rimanga l'udibrio perché sennò mi vergognerei quindi bisogna che io faccia quello che devo fare anche se questo mi può costare la morte e così ragiona anche Socrate anch'io devo fare quello che mi sento di dover fare quello che ritengo giusto dover fare anche se questo potrebbe costarmi la morte capitolo diciassettesimo la onde io avrei operato perversamente se quando i capitani da voi eletti per comandarmi mebbero assegnato il luogo e in potidea e in anfipoli e in delio nel luogo assegnato da quelli ostetti sì come qualunque altro con tutto che in pericolo di morire e poi assegnandomi dio come ho pensato e supposto che dovessi vivere filosofando ed esaminando me e gli altri qui impaurito della morte o che altro mai io avessi abbandonato la ordinanza sarebbe assai grave cosa e allora ben giustamente si trarrebbe me in tribunale per ciò che non credo negli di disubbidendo all'oracolo e temendo la morte e riputandomi sapiente senza che fossi impero che cittadini il tenere il temere la morte niente altro è che parer sapienti senza essere perché parer di sapere ciò che non si sa che nessuno sa della morte se la per avventura non sia l'uomo il maggiore di tutti i beni e ognuno la teme come se ben sapesse essere quella il maggior dei mali e non è ignoranza cotesta la più vituperevole creder di sapere ciò che non si sa e io cittadini proprio in questo riferisco forse dai molti e se cosa ci è per la quale io affermerei essere più sapiente di alcuno questa è che come non so delle cose dell'ade così anche credo di non saperne ma al fare ingiustizia e disubbidire a uno migliore o dio o uomo che ma la cosa è e brutta so io giammai non temerò dunque né fuggirò quello che non so se sia un bene ma sì piuttosto i mali che so essere mali onde se anche mi lasciaste ora non dando retta ad anito a lui che disse non bisognava che qua io entrassi ma entrato necessità era uccidermi annunziandovi che semmai io campassi seguitando gli insegnamenti di socrates tutti i vostri figliuoli sarebbero tutti guasti e se mi diceste anche o socrate ad anito noi non diamo retta e ti lasciamo a questo patto che non passi più il tempo in fare di quelle investigazioni che più non filosofeggi se no se ti cogliamo morirai se come dico mi lasciaste ma a questo patto io vi direi miei cari atenesi vi saluto e piuttosto vi dirò a dio che a voi e insino a che io ho fiato e forze non cesserò di filosofare e di dare avvertimenti e consigli a voi e a chiunque mi avvenga dicendo come son solito o ottimo uomo tu che sei atenese di una gran città e gloriosissima per sapienza e possanza non ti vergogni di aver cura delle tue ricchezze a ciò che quanto si può e le si multiplichino e della riputazione dell'onore e non avere poi cura e sollecitudine della sapienza e della verità e dell'anima a ciò che quanto si può buona ella divenga e se alcuno di voi mi oppone che bene egli ne ha cura non lascerò così tosto non andrò via ma lo interrogerò ed esaminerò e discuterò e se mi pare che non possieda la virtù pur dicendoli sì lo riprenderò però che ha un vile ciò che è pregevolissimo e ha in pregio ciò che è vilissimo e questo fa con giovani e vecchi in chiunque mi avvenga con forestieri e cittadini e più con voi cittadini perché mi siete prossimi più voi di nascita che sappiate questo mi comanda lì dio e io credo che niuno maggior bene abbia la vostra la città vostra che questo ministerio che fo lì dio questo mio andare attorno non facendo altro che confortar voi e giovani e vecchi a non prender cura né dei corpi né delle ricchezze né prima né più dell'anima a ciò che quanto si può e la divenga buona dicendo che non da ricchezza viene virtù ma sì da virtù viene ricchezza ed ogni altro bene e ai cittadini e alla città e se dicendo cotesto corrompo i giovani pernicioso è quello che io dico ma se alcuno afferma che non cotesto ma si bene altro insegno io afferma quel che non è e soggiungerei ateniesi diate retta danito o no mi assolviate o non mi assolviate io non farò altrimenti neanche se molte volte io avessi a morire allora guardate questo diciassettesimo capitolo è molto intenso c'è un lungo discorso di socrate molto trascinante anche spero di averlo letto in maniera decente e discreta è molto bello però perché qui socrate sta mettendo in chiaro prima di tutto dice guardate mi avete fatto combattere per la città e quando i miei comandanti capitani dell'esercito mi hanno mi hanno ordinato di stare in un luogo di difenderlo eccetera io li sono rimasto ho fatto il mio compito ma allo stesso modo proprio perché ho servito la città combattendo in battaglia perché socrate aveva fatto il servizio militare eccetera allora io adesso devo servire gli dèi io quello che faccio il mio modo di filosofare il mio andare in giro interrogare le persone lo faccio perché me l'ha chiesto il dio in fondo è stato l'oracolo di delfi come dicevamo all'inizio ad avermi spinto a fare questo mestiere a fare questa attività e allora io non posso rifiutarmi non posso tirarmi indietro devo obbedire alla richiesta degli dèi se anche voi dice a un certo punto alla giuria mi assolveste e mi diceste vabbè dai vattene socrate sei assolto ma mi assolveste con una condizione cioè vattene sei assolto ma per favore non andare più in giro a filosofare ecco se mi assolveste in questo modo io non sarei contento non potrei seguitare quello che mi dite non potrei smettere di far filosofia perché devo obbedire alla richiesta del dio che è più alta della richiesta di voi che siete giuria quindi sappiate bene se mi volete assolvere imponendomi di non far più filosofia sappiate bene che è meglio che mi condannate perché io preferisco morire piuttosto che non far più filosofia qui si introduce un tema che torna spesso nei discorsi di socrate una vita senza filosofia non è degna di essere vissuta una vita in cui non si può riflettere pensare interrogare gli altri non è degna di essere vissuto allora piuttosto meglio la morte anche perché dice socrate questa morte poi non è così da temere so che tutti voi temete la morte tutti nel mondo hanno una paura incredibile della morte eppure è completamente illogica questa paura perché la morte non si sa che cos'è nessuno sa cosa voglia dire morire nessuno sa se dopo la morte questo intendere socrate ci sia sofferenza ci sia pace ci sia dolore ci sia gioia chi lo sa cosa c'era per la morte e allora è proprio assurdo aver paura della morte bisogna piuttosto confessare a se stessi che non si sa cosa c'è dopo la morte bisogna ammettere la propria ignoranza il discorso di prima no dice socrate io sono un po' superiore agli altri perché io non non ritengo di sapere non faccio finta di sapere io so di non sapere e quindi anche davanti alla morte so di non sapere cosa c'è dopo la morte e quindi non mi preoccupo di cosa troverò perché davvero per me è una cosa ignota non ha senso angosciarsi per qualcosa che non si sa cosa sarà potrebbe essere anche bello la vita dopo la morte potrebbe essere anche un guadagno alla morte dunque perché impaurirsene chi ha paura della morte chi vive con angoscia la prospettiva della morte lo fa perché crede di sapere cos'è la morte ma capite che è una supponenza una presunzione quella di sapere cosa c'è dopo la morte e allora molto meglio non preoccuparsene e rimanere fedeli a se stessi non aver paura della morte e rimanere fedeli alla propria filosofia quindi io continuerò a fare filosofia lo farò con tutti lo farò in giro per la città e secondo me attenesi dovrete dovreste anche essere soddisfatti di quello che faccio sembra già sottintendere socrate perché in fondo io vi aiuto a trovare la virtù vi aiuto a trovare la sapienza lo faccio non per mio gusto personale ma perché così facendo vi aiuto a trovare la virtù qua c'è un sacco di gente che cerca la ricchezza e trascura la virtù ma quanto meglio sarebbe cercare la virtù perché non è vero che la ricchezza dà la virtù è vero piuttosto che la virtù dà la ricchezza una volta che trovate la virtù sarete uomini ricchi magari non per forza in senso materiale ma in senso spirituale invece voi cercate la ricchezza materiale senza badare alle virtù spirituali e invece dovete fare il contrario dovete cercare la virtù e lì io vi posso aiutare io vi posso dare una mano a far emergere la sapienza capitolo diciottesimo non rumoraggiate a tenesi per quel che dico ma siate quieti e udire come vi ho pregato che udendo penso che ne riceverete giovamento perché altre cose vi ho a dire io che forse vi faranno gridare forte ma no state quieti via sappiate che se ucciderete me son quale dico più che me danneggerete voi medesimi a me non farebbe niente uno danno né meletto né anito che non potrebbero impero che secondo che credo io non è lecito che il più buono possa essere danneggiato dal più tristo ucciderebbe egli o cazzerebbe in bando o disonorerebbe che forse le dette cose egli e alcun altro credono grandi mali ma io no male piuttosto a fare quello che costui fa tentare di uccidere ingiustamente un uomo dunque io non difendo ora me per me come penserebbe alcuno ma per voi a ciò che con nando me non pecchiate contro il dono di dio in vero se mi ucciderete non vi sarà agevole cosa la dirò anche se fu ridere trovare un altro come me messo da dio addosso alla città come addosso a un grande e generoso cavallo ma per la grandezza un poco sonnolento e bisognoso di essere destato da sprone che con tal ufficio direi che dio ha deputato me alla città me che scotendo persuadendo rampognando vi sto tutto il dia addosso sì cittadini un altro come me non vi nascerà facilmente e voi se mi date retta mi risparmierete ma forse da subita ira presi come sonnecchianti desti per forza tirando calci dando retta a danito uccidereste leggermente e consumereste la rimanente vita dormendo seppure lì dio non mandasse alcun altro avendo di voi cura e che io sia la città un dono di dio potete intendere considerando che non parco non par cosa umana che abbia trascurato i fatti miei la mia casa già e tanti anni e cui i fatti vostri stando ai fianchi di ciascuno predicando virtù come padre o come fratello più vecchio e se da questi conforti e consigli mia utilità nei tra essi se ne ricevessi mercede ci sarebbe una ragione ma vedete anche voi che gli accusatori pur accusandomi di tante altre cose spudoratamente non hanno avuto tanta spudoratezza da durre testimoni che io abbia patteggiato mai o dimandato mercede ma io un buon testimone credo di avercelo che io dico vero la povertà allora di nuovo in questo capitolo diciottesimo socrate diciamo si lancia in un'invettiva anche piuttosto dura anche che può sembrare poco modesta contro atene in difesa di ciascuno dice tanto state calmi fate fate meno di rumoreggiare perché devo dirne anche di peggio di cose quindi non vi infuriate perché sto per caricare il mio discorso e dice però attenzione io in fondo mi comporto con voi con voi come cittadini di atene come un tafano non usa in questa traduzione la parola tafano ma il senso è quello che punzecchia continuamente un cavallo atene viene paragonata infatti da socrate a un cavallo buono di razza però un po sonnolento un po pigro proprio perché è grosso no allora un cavallo pigro bisogno sempre di essere stuzzicato rampognato di essere smosso perché sennò si affievolisce si impigrisce no allora socrate dice io con la città sono proprio come un tafano una zanzara fastidiosa che sta lì a punzecchiare 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 il cavallo però così lo mantiene vivo lo mantiene in forma lo mantiene sveglio perché sennò sto cavallo si addormenterebbe si appisolerebbe così è atene che è grande maestosa e forte e nobile ma ha bisogno di qualcuno che la punzecchi se no si lascia andare e quindi dice attenzione è vero che vi do fastidio però non ammazzatevi come si fa con la zanzara col tafano perché ne avreste danno e infatti dice socrate attenzione io qua in questo processo in realtà non sto difendendo me per me ma sto difendendo me per voi cioè la mia difesa non serve a difendere me perché a me di quello che farete a me non me ne frega niente io sono nel giusto che mi mandiate a morte oppure no a me non cambia niente io ho fatto la cosa giusta e sono a posto con la mia coscienza quello che faccio quella difesa mi è così accorata perché voglio difendere voi voglio evitiare che voi facciate un errore grave che voi mi condannate ingiustamente quello per voi sarebbe un errore grave vi condannereste al peccato al vizio a sbagliare in maniera pesante io non voglio che voi vi perdiate non voglio che voi perdiate la retta via proprio per questo mi sto difendendo per aiutare voi più che me ne capite che il discorso di socrate è anche bello interessante però può sembrare anche provocatorio perché davanti alla giuria fa quasi l'impressione di uno dotato di scarsa molestia anche perché a un certo punto dice se poi mi ammazzate mi fate morire mi uccidete sappiate che uno come me non ne nascerà presto farete fatica a trovare altri come me eppure avete bisogno di gente come me capitolo diciannovesimo ma parla strano che io dia consigli in privato andando attorno e affaccendandomi e non ardisca a montar su e in pubblico dare consigli alla città in cospetto del popolo la cagione l'avete da me udita molte volte cioè che mi avvenne un che divino e demoniaco come disse nella quella anche meleto pigliando se ne gioco ed è una cotal voce che sino da fanciullo sento io dentro e tutte le volte che io la sento mi svolge da quello che son per fare sospingere non sospinge mai ella mi si oppone che non metta mano nelle cose della città e mi par che ha ragione perché ateniesi sappiate bene che se da un pezzo ci avessi messo mano da un pezzo sarei morto e non avrei niente giovato né a me né a voi non mi andate in collera se dico il vero che un uomo non si salva chiunque sia a voi o ad alcuna moltitudine generosamente contrastando impedendo che cose ingiuste siano fatte nella città e contrarie alle leggi ed è necessità a chi combatte per la giustizia che non viva egli in pubblico seppur vuole salvarsi per piccol il tempo ma si privatamente ecco cosa dice nel capitolo precedente aveva concluso dicendo guardate la prova del fatto che io faccio queste cose per solo amore del bene il fatto che io sono povero l'unica cosa che mi interessa è raggiungere la virtù perché se mi interessassero altre cose se mi interessassero i soldi la ricchezza la gloria avrei avuto modo di arricchirmi invece vedete sono povero perché ho barato più al bene degli altri che al bene mio e qui nel capitolo diciannovesimo continua su questa falsa riga perché dice potreste chiedermi perché però se penso davvero di fare il bene mi sono occupato sempre di questioni private ma di questioni pubbliche cioè cerco di fare il bene parlando con una persona alla volta potremmo dire e invece non parlando in assemblea parlando nelle occasioni pubbliche facendo politica attiva e socrates dice beh la ragione è che c'è dentro di me una voce demoniaca infatti mi ha detto mi accusa dei demoni ma effettivamente lo ammetto dentro di me io sento una voce fin da quando ero giovane che lui dice non mi sospinge ma mi blocca c'è una voce che non mi dice fai questo fai quell'altro ma mi dice piuttosto non fare questo non fare quest'altro una voce divina quando dice demoniaca non pensate non pensiate ai demoni del cristianesimo non è nell'accezione cristiana quella del demone socratico come un essere cattivo malvagio nel linguaggio greco queste figure di demoni e demoni che sono sostanzialmente delle vie di mezzo tra gli dèi gli uomini sono le figure semi divine che non hanno di per sé un'accezione negativa quindi dice sento di me una voce che mi rimanda agli dèi come se avessi un demone qualcosa di divino dentro che mi blocca dal e mi impedisce di non fa di fare alcune cose e di fare altre cose e ad esempio questa voce mi ha sempre detto non fare politica non immischiarti nelle questioni della politica non buttarti in mezzo nella discussione pubblica perché me l'ha detta beh perché probabilmente se mi fossi buttato in politica sarei già morto da un sacco di tempo e non avrei potuto fare tutto il bene che ho fatto l'agire privatamente faccia a faccia uno alla volta mi ha permesso di fare del bene senza immischiarmi nelle faccende della politica che poi magari ti portano all'esilio o alla morte molto prima senza che tu riesca incidere veramente capitolo ventesimo e di ciò vi arrecherò grandi prove io medesimo parole no ma sì ciò che apprezzate voi fatti udite dunque quel che mi avvenne a ciò che sappiate che io ne cederei a nessuno contro giustizia per paura di morte né se morire dovessi subitamente per non cedere vi dirò cose giudiziali dolorose ma vere io non ebbi mai atenesi alcun maestrato in città sì fui un del consiglio e avvenne che quei della mia tribù antiocchi antiocchide facessero da britani quando voi i dieci capitani che non recuperarono i naufraghi e i morti della battaglia navale voleste giudicare tutti insieme contro legge come passando tempo vi foste accorti voi medesimi allora io solo dei britani mi fui opposto a voi a ciò che nulla fosse fatto contro le leggi e votai contro e già gli oratori lesti a interdirmi menarmi in carcere incorandoli gridando voi ma io pensai meglio mettermi in pericolo con la legge e con la giustizia che con voi starmene deliberanti la ingiustizia per paura di catene e di morte e questo fu reggentici tuttavia la città a popolo venuta la oligarchia un di i trenta alla loro volta mandarono chiamando certuni e me quinto nella sala del tolo e comandarono che dovessimo menare via la salamina leonte il salaminio affinché morisse e sceleratezze simili e ne ordinarono molte e a molti volendo quelli riempire riempiere di colpi quanti più potessero e allora non a parole mostrai ma sia fatti parro rozzo che non cale a me nulla della morte proprio nulla ma di non far cosa né una ingiusta né impia di questo mi cale bene assai però che sì non mi spaventò quella signoria con tutto che violenta che cosa né una ingiusta facessi che usciti di quella sala i quattro si avviarono per salamina e menarono leonte e io mi avviai a casa e forse io era morto se quella signoria non la cacciavano giù presto e di questo che dico eccovi molti testimoni un capitolo questo ventesimo un po difficile da leggere perché ci sono delle frasi dei periodi lunghissimi ma in realtà il senso è molto chiaro qui socrate vuole portare nuove prove a sostegno di quello che ha detto cioè del fatto che lui non si interessa dei rischi si interessa solo del fare la cosa giusta del dire la verità del rispettare le norme o della città o interiori quello che gli interessa non ha paura della morte e porta delle prove dice vi porto dei fatti vi mostro dei fatti e cita due situazioni la prima quando la città voleva giudicare i dieci capitani che non avevano recuperato un alfredi della morte della battaglia navale e qui è un caso a una situazione della storia atenese quando appunto la città giudicò venera anche in parte illegittima dieci capitani che non avranno recuperato i naufraghi qui dice eravate voi atenesi eravate tutti voglia di una condanna esemplare ma era ingiusta quella condanna perché contravveniva le leggi e allora io mi rifiutai quindi primo caso in cui lui che era chiamato a giudicare faceva parte della giuria fu l'unico in fondo a dire di no non per giudicare o meno il valore ma per rispetto delle leggi non si procede così siano colpevoli oppure no lo si deve giudicare in base alle leggi non in base a l'odio del momento la voglia di giustizia esagerata eccetera la stessa cosa dice dopo quando quei 30 tiranni si voleva andare a prendere a salamina leonte i 30 tiranni ordinarono un gruppo di persone di andarlo a prendere contravvenendo però le leggi dice perché questi 30 tiranni volevano far ricadere su tutti varie colpe allora fumo convocati in alcune persone per fare questo compito che era illegale la maggior parte di queste persone eravamo in 5 4 decisero di obbedire all'ordine dei 30 tiranni contravvenendo alle leggi io no fui l'unico che non obbedì a queste leggi e dice me ne andai a casa mentre gli altri andarono a salamina e forse ero morto dice se quella signoria non la cacciavano giù presto cioè se i 30 tiranni non fossero caduti poco dopo io probabilmente sarei già morto perché me avrebbero fatta pagare quel rifiuto che diedi me l'avrebbero fatto pagare però per fortuna mia la tirania dei 30 tiranni cadde presto e quindi io sono ancora vivo però come vedete nella mia vita ci sono situazioni in cui il potere politico mi impose una certa cosa io mi rifiutai sconsapevole che sarei potuto andare incontro alla morte ma mi rifiutai capitolo ventunesimo e credete che poteva durare tanti anni se io ero in pubblici uffici sostenendo come si conviene ad bene uomo il giusto e di quelli e di quello come egli è debito facendo estimazione più che di ogni altra cosa o no atenesi né io né vero un altro e io per tutta la vita e in pubblico se feci mai cosa alcuna tale apparirò e tale in privato come a niuno mai concedente nulla contro il giusto chiunque fosse a niuno neanche di questi che i miei calunniatori chiamano i miei discepoli io poi non fui maestro mai di alcuno e se parlando e badando io ai fatti miei alcuno mi vuole udire sia giovane sia vecchio non ho detto no mai né se mi danno danaro in mano apro bocca e se non me ne danno no ma semilmente e a ricco e a povero mi proferisco per interrogare se vogliono rispondere e stare udire quel che dico io e o buono diventa alcuno di loro o no dire che la cagione sono io non sarebbe giusto io che a niuno di loro ne ho promesso mai di insegnare ne ho insegnato mai niena dottrina e se alcuno dice aver mai imparato o udito da me cosa privatamente la quale tutti gli altri no sappiate che non dice vero di nuovo qua amplia il discorso socrates perché dice beh intanto immaginatevi io mi sono sempre rifiutato di far politica perché se avessi fatto politica questa mia onestà non mi avrebbe fatto andare avanti molto sapete bene che chi fa politica non può essere sempre onesto e quindi non può essere sempre giusto io invece ho sempre voluto essere giusto e onesto e pertanto alla fine non ho fatto politica ho fatto la mia attività in privato ma attenzione sempre con qualcun altro che sentiva non ho mai dato consiglio insegnamenti a persone singole senza altri che mi potessero sentire e d'altronde dice socrate non ho mai voluto fare scuola anche io non posso impedire ai giovani vecchi che mi seguono di ascoltare quello che dico ma non è che ho fatto scuola non è che mi sono tirati dietro io questi giovani vecchi sono loro che mi vengono dietro e d'altronde io parlo con le persone e se queste persone poi fanno cose buone o cattive dipende da loro io tento di farle diventare buone ma poi è compito loro fare o non fare essere buoni o non buoni ecco per oggi mi fermerai qui abbiamo finito il capitolo ventunesimo in tutto sono 33 capitoli siamo circa i due terzi del libro come vedete scorrevole semplice se guardate solo alle parti di lettura anche piuttosto breve ma il discorso fila la logica di socrate è piuttosto ferrea e direi anche ben espressa adesso qua per carità il testo è antico la traduzione è antica anch'essa però il filo penso spero si riesce a seguire prossimamente continueremo e tenteremo anche di avvicinarci alla fine di questo bel testo in descrizione trovate come solito i capitoletti cioè la lettura del capitolo il commento del capitolo così da saltare se vi torna utile da un punto all'altro del video trovate anche come dicevo all'inizio il link agli altri video già della playlist e poi ad altre risorse interessanti dateci un'occhiata ci vediamo presto per continuare la lettura della apologia di socrate ma anche per altri video di storia filosofia educazione civica vi ricordo anche i podcast se è tanto materiale sfruttatelo ciao alla prossima